Mentre così meditava nel cuore e nell'animo, una grande ondata lo gettò contro la riva irta di scogli. E qui si sarebbe lacerato la pelle e spezzato le ossa, se la dea Atena non lo avesse ispirato nel cuore. Con un balzo si afferrò con entrambe le mani a una roccia, e vi si tegna attaccato, gemendo, fino a che l'ondata trascorse. La evitò dunque, ma essa lo afferrò nel risucchio e lo scagliò lontano nel mare, come quando un polipo viene strappato al suo covo e alle ventose restano infisse tante piccole pietre, così le forti mani di Odisseo si lacerarono contro la roccia. Fu sommerso dall'onda enorme, e allora contro il destino sarebbe morto l'infelice Odisseo, se non l'avesse ispirato la dea dagli occhi lucenti. emerse dall'onda, che si rovesciava a riva ruggendo, nuotò lungo la costa guardando verso la terra, semmai potesse trovare in senatore spiagge su cui le onde si frangono oblique. E quando giunse nuotando alla foce di un fiume dalle bellissime acque, quello gli sembrò il luogo migliore, privo di rocce e a riparo dal vento.